La tua luce in me è come un fuoco vivificante e il tuo divino amore mi compenetra. Con tutto il mio essere desidero ardentemente che tu regni come sovrano Signore di questo corpo. Esso vuole diventare il tuo strumento docile e il tuo fedele servitore. Omm 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 Grazie per la visione 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 Aum 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 Omm Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aum... 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 Aum...